Musica Ben trovati a Da Tu per Tu, la trasmissione realizzata da Trentino TV in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Salutiamo il consigliere provinciale di Futura Paolo Ghezzi, ben arrivato nei nostri studi. Allora, parliamo di manovra di bilancio. Nelle ore scorse c'è stata un'anticipazione da parte dell'esecutivo che ha incontrato le categorie economiche e di sindacati sulla manovra di bilancio. Partiamo intanto dalle cifre, ci sarebbero 200 milioni in più, consigliere Ghezzi. Sì, sui 200 milioni non vorremmo che fosse il gioco delle due o delle tre carte, in questo caso delle due carte, perché è stato notato che prima ci avevano detto che c'erano 200 milioni in meno, poi 200 milioni sono stati trovati dalle minore riserve da accantonare all'erario, insomma sostanzialmente sono comunque eredità dei bilanci precedenti. Non c'è da farsi grande trionfalismo, né in questo caso né nell'assestamento di bilancio che abbiamo votato in estate. È direi una manovricchia, nel senso che mette un po' di soldi per le opere pubbliche, non ci sono soldi ancora per il rinnovo dei contratti pubblici, fa uno sgravio, rimette lo sgravio sull'IRPEF, sull'addizionale regionale IRPEF, però lo limita ai 15 mila euro, prima era ai 20 mila. Mette un po' più di tassa, sempre addizionale IRPEF sui redditi superiori, però c'è questa fascia fra i 20 e i 15 mila che verranno penalizzati. Quindi è la solita manovra alla Fugatti, direi che contiene degli aspetti quasi fisiologici di aumento della spesa pubblica, in base ai fondi che si è ritrovato e che non sono merito suo, e un po' di tagli un po' pasticciati. Quindi è una manovra ancora da vedere, tra l'altro noi non l'abbiamo ancora vista e faccio notare che la Giunta arriva sempre in extremis con degli emendamenti che magari stravolgono quello che è stato annunciato ai sindacati, quindi io finché non la vedo in commissione non mi fido. Hanno ribadito l'attenzione al sociale in particolare, ad esempio il bonus, che non è giusto chiamarlo così, ma insomma per farci capire nell'immediato e anche altre iniziative. Parliamo anche di ticket sanitari. Sì, ma quello dipende anche dalle normative nazionali, l'attenzione al sociale può darsi che ci sia. Noi diciamo che l'attenzione al sociale, per esempio sul bonus bebè, doveva essere l'attenzione a tutti quelli che nascevano in Trentino, indipendentemente dai vincoli di residenza in Trentino e in Italia, invece è stato scelto di fare una misura selettiva. Voglio vedere l'attenzione al sociale come si tradurrà rispetto alle grandi preoccupazioni che andranno in commissione proprio la prossima settimana sugli appalti sociali. Lì ci sono delle normative europee, è vero, ma è anche vero che la provincia è arrivata in extremis con delle misure che non sono soddisfacenti e che soprattutto creano molta preoccupazione nelle cooperative sociali di servizio alla persona. Quindi un'attenzione sociale è anche questa tutta da verificare. Stiamo ancora sull'attualità, parliamo di nomine del Centro Servizi Culturali Santa Chiara, abbiamo visto insomma le nomine ci sono state, il Presidente del Centro è Sergio Divina, se ne era parlato in commissione dove in particolare da lei era stata data battaglia. Sì, battaglia per due motivi, sia perché la nomina di Divina in particolare ma anche degli altri consiglieri d'amministrazione non rispondeva ai requisiti di legge. I requisiti di legge prevedono una esperienza specifica in campo manageriale delle risorse umane e in particolare del settore culturale. Questo nel curriculum del Senatore Divina non c'era. Quindi è una classica nomina politica, è un ex politico in pensione che viene ritirato dentro con il piccolo inganno che è stato fatto anche in un comunicato della Giunta, cioè di dire che bravo viene gratis quando lo stesso Dottor Martinelli, dirigente del Servizio Attività Culturali in commissione ha ricordato che è dal 2010 che non viene pagato nessuno al Centro Santa Chiara, quindi non era un eroismo di Divina. Quindi un ex senatore, un ex politico con non competenza specifica si è violata la legge e oltretutto è un politico che è diventato famoso per esempio per i vagoni riservati agli immigrati, per riservarli ai non immigrati. Quindi direi non una grande nomina, non un grande colpo di genio della Giunta fugattista. Tra l'altro Sergio Divina ha detto che si rivolgerà direttamente e risponderà all'assessore Bisesti. Eh sì, noto per le sue visioni di amplissimo livello. Bisesti ha subappaltato la cultura. Bisesti ha dato il Muse a Zecchi, il Mart a Sgarbi, la cultura addirittura, la riforma della cultura a Pietrangelo Buttafuoco, con un giornalista siciliano convertito all'Islam, andiamo avanti così. Bisesti purtroppo non ha una visione culturale e non credo che Divina porti questa visione culturale. Per fortuna al Centro Santa Chiara c'è sempre un direttore che è poi quello che fa le scelte artistiche e operative. Passiamo a un'altra commissione che è stata proprio nominata di recente, la commissione investigativa sull'affido dei minori che è presieduta da Mara Dal Zocchio, Capogruppo della Lega in Consiglio. Ecco, su questa commissione avete espresso anche in questo caso delle riserve molto precise. Più che riserve la consideriamo un'iniziativa propagandistica nel momento in cui la stessa Capogruppo della Lega ci ha detto in aula e l'ha ripetuto, non che ci siano in Trentino problemi come delle altre parti, quindi Bibiano non c'entra, Bibiano non è in provincia di Trento, a parte che Bibiano poi sia molto ridimensionata nelle notizie giornalistiche. Ma quindi, senza un motivo vero, si fa una commissione indagini, attenzione, che dura due anni sulla pelle dei minori, delle loro famiglie, casi delicatissimi che vanno affrontati in punta dei piedi, con la massima privacy, eccetera, eccetera. Qui si vuole andare a chiedere dei dati che sono già in possesso dell'assessorato, che è della Lega, che è della Stefania Segnana. Quindi è una commissione sostanzialmente inutile per fare propaganda. Per questo noi abbiamo votato no e per questo la mia collega Lucia Coppola si è rifiutata, la volevano vicepresidente di questa commissione, vicepresidente della Dal Zocchio, si è giustamente rifiutata di farlo, però sarà in commissione perlomeno per salvaguardare quella che è un'attenzione ai minori, che deve essere un'attenzione non propagandistica, non strumentale, non fatta sulla pelle dei bambini. Siamo in chiusura, consigliere Ghezzi, grazie per essere stato con noi. È tutto per questa puntata di A Tu Per Tu, grazie di averci seguito, alla prossima, arrivederci. Grazie a tutti.